La rivoluzione intesa non come sfogo, non come eccesso, non come casino, ma come trattenimento. Perché il vero rivoltoso negli anni 10 del 2000 non è colui che distrugge, che rompe, che fa, è quello che trattiene, che si trattiene, che evita di fare le cose. E infatti? E infatti il brano si intitola Rivoluzione Costipazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rivoluzione Costipazione 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 Con la constipazione Risparmi l'acqua nello scarico nello sciapone Risparmi la tecnica del rotolone Salvilo solo Perché non sbuzzi di odorante E per compiere con il cuore l'alleante Con la constipazione Rivolta non gli oventa brutto di meditazione Filosofia della non-defecazione Nessuna tentazione A chi ha piacere io protesto Uratemi quel bagno e poter investo Indietro ormai non torno Mi sento esplodere Ma tengo chiuso il forno Mangio una mela al giorno Che astringente toglie il medico di mitono Non mi sento immondo Quello che trattengono Mi opprime il figlio in fondo Co-co-colite un corno Se l'ho occupato dentro Ma libero è tutto È solo Mi opprime il figlio in fondo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.